da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi difesa certamente da rivedere ma ottimo il movimento a liberarsi dell'attaccante ha dimostrato un grande fiuto del gol ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro 1-0 la cassette punta l'area provano a aprire la scatola difensiva avversaria Kovacic pallone che resta in campo Ledar e il pallone entra ed è gol nemmeno il tempo di esultare per il gol segnato che hanno subito immediatamente il pareggio un gol al volo impeccabile